Amici appassionati delle feste in casa o all'aperto, ben ritrovati qua sul mio canale Se siete proprio appassionati di musica e volete spaccare tutti i vetri della vostra casa con un impianto top Ma non avete un budget eccessivo, potreste puntare su una cassa Una cassa veramente potente, ve la faccio vedere in questo video È di Tronsmart, ha lo 160 watt Il 100 può ingannare, sono 60 watt con 3 twitter e un woofer Ma al di là dei numeri, questa cassa in sostanza spacca veramente tanto Allora è qua, è pronta già, accesa e ha questi effetti tamarri che fanno sempre piacere Spegnerete la luce, questa luce animerà la serata e vi divertirete da soli o con i vostri amici Come è composta? Andiamo a vedere qua A parte che abbiamo la possibilità di trasportarla con questo gancetto Ma abbiamo anche una protezione perché resiste agli schizzi d'acqua Protezione che ci fa vedere l'ingresso USB per le chiavette Quindi se avete una chiavetta piena di musica, mettetela C'è la possibilità di ricarica, reset, cavo aux Quindi direttamente con lo spinotto per riprodurre la musica di un dispositivo E per finire anche la possibilità di micro SD E sulla parte inferiore gommini antiscivolo e un sacco di certificazioni Eccola dall'alto con un po' di comandi Pad gommato che si preme e ci fa accoppiare una cassa gemella E quindi questa va in stereo Avrete due sorgenti per fare un gran casino Un audio molto più avvolgente Sorgente, il tasto per andare a cambiare la sorgente Quindi schedine, micro SD, cavo aux o bluetooth La modalità di equalizzazione e volume Cambio traccia, play pausa, oltre questo Questo tasto qua col sole va a cambiare gli effetti di luce Eccoli qua, quindi possiamo andare a cambiare gli occhietti della cassa Spenti e poi rossi, verdi, gialli, celesti e via Potrete utilizzare l'applicazione di TronSmart Eccola qua Andate nella sezione altoparlanti Non cuffie, mi raccomando Altoparlanti troverete tutti quelli con cui potete interagire Halo 100 Farà una ricerca rapida ma, boom, l'ha già trovata Nella sezione equalizzazione Eccole qua, tutto ciò che si può fare Quindi andremo a cambiare la tipologia di equalizzazione Classico, la possiamo personalizzare Nelle impostazioni dell'applicazione della cassa Potremo fare switch fra la sorgente sonora Quindi passare bluetooth, cavo aux, la microSD e la chiavetta, la pendrive Potremo andare a associare una cassa gemella E quindi la cassa va a cercare una gemella E il suono va in duplice sorgente contemporaneamente E poi possiamo cambiare i led Eccoli qua, a seconda di ciò che stiamo ascoltando Abbiamo balletto, la festa, la città dei fantasmi, la giostra Insomma, ce ne sono tante La notte stellata Sempre dalla home Se andiamo a cliccare qua Possiamo aggiornare il firmware Quindi andremo ad aggiornare il firmware della cassa In questo caso è già l'ultimo Perché l'ho aggiornato poco fa Prima di fare la recensione E allora dai, contenuto della confezione di vendita Bella grande perché la cassa è bella grande ragazzi Classica cassa da karaoke Esiste anche il modello per collegare il microfono addirittura Ma non è questo il caso Una cassa da 60 watt Cosa c'è all'interno? Una manualistica Bella ricca di informazioni Eppure illustrate con dei disegni colorati Quindi veramente fatta molto bene Troviamo anche un cavo di alimentazione USB-C Per ricaricare la cassa E un cavo AUX Quindi maschio maschio Ve li faccio vedere qua Maschio maschio Per collegare due dispositivi Proprio fisicamente Per far passare la musica Senza usare il bluetooth Le possibilità di ascolto musicale sono tante Micro SD Pen drive Cavo AUX E bluetooth Insomma potete ascoltare la musica come meglio vi pare E nella parte alta ci sono i pulsantini Meno Più E play Che possono servirvi anche per Oltre ad aumentare il volume Per cambiare una traccia Oppure per rispondere Alle telefonate Infatti quando vi chiamano Il telefono è connesso via bluetooth alla cassa Basterà premere il pulsante Play Per iniziare una conversazione L'audio ovviamente uscirà da questo speaker Quindi attenzione La privacy non ci sarà Però È utile anche per non dover scollegare sempre il telefono Mentre ascoltate la musica Pronto pronto Ragazzi Mi sentite Mi sentite Pronto Qualità audio Abbastanza pesante A livello di oggetto E ingombrante 2,7 kg di cassa Vedete mi viene da abbracciarla Da quanto mi è piaciuta Con una batteria integrata Da 12.000 mAh Che si ricarica in 5 ore Sì Non è veloce a ricaricarsi Ma vi dura anche tantissimo Io lo sto usando ormai da 3 giorni E ho ascoltato tanta musica Non l'ho ancora scaricata Considerate che è dichiarata un'autonomia Fino a 18 ore Distanti dalla cassa ragazzi Non so se sentite la mia voce L'audio è veramente ottimo Siamo veramente distanti Saranno all'incirca 7 metri 6 metri E niente Quindi più ci avviciniamo Ovviamente E più l'audio sarà potente Sentite che bassi Ragazzi sempre più indietro Ma la qualità è altissima Sentite che sound Grazie a tutti Sì Grazie a tutti Sì Sì e allora cari appassionati secondo voi quanto abbiamo speso per portarsi a casa la Tronsmart Halo 100 una cassa con bluetooth 5.3 codec sbc lunghissima autonomia ma soprattutto audio da paura 60 watt mi è piaciuta tanto e si vede penso servono di listino 110 euro nemmeno tanti ma c'è sempre lo sconto quindi attivate il coupon il codice che troverete sotto al rettangolo del video si porta a casa intorno agli 88 euro se la vorrete prendere su Amazon anche su Geek Buying è disponibile costa anche lì un centinaio d'euro quindi una cassa che assolutamente vi fa fare il salto di qualità se volete organizzare un party volete stare al buio con effetti luminosi sentirvi la musica di tutti i generi perché suona bene in qualunque ambito medi alti e bassi vengono riprodotti secondo me con una qualità veramente top a me è piaciuta a questo punto vi lascerò il link per acquistarla sotto al video grazie per l'attenzione buona musica buona cassa se mai l'acquisterete vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'aveste fatto e di attivare la campanellina per seguire sempre i miei video appena escono e continuate a seguire anche offerte Smart Italia una bella pagina su Telegram e su Facebook dove troverete offerte sulla tecnologia di tutti i tipi c'è la cassa c'è il telefono notebook smartwatch auricolari eccetera eccetera alla prossima ciao